Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Il grande fratello, ha proclamato vincitrice per l'avatiero, la giovane campana nella sfida finale contro la nota attrice Beatrice Luzzi. Subito dopo l'annuncio del vincitore, un momento particolare ha catturato l'attenzione del pubblico. Il conduttore Alfonso Signorini, pensando di non essere ripreso dalle telecamere, si è diretto non verso la vincitrice Perla, ma verso Beatrice Luzzi, arrivata seconda. Signorini ha abbracciato calorosamente l'attrice, esprimendole ammirazione e affetto con parole che hanno rapidamente fatto il giro della rete, tu sei grandissima, ti ho sempre amato, sai? Però, grazie davvero. Sei una grande donna. La risposta di Beatrice Luzzi non si è fatta attendere, grazie a te, perché senza di te non sarei sopravvissuta lì dentro. Questo scambio di ringraziamenti e affetto tra i due ha suscitato grande interesse e discussione tra i fan del programma. Molti hanno interpretato la scena come una delusione anche da parte di Signorini per il risultato finale. E voi, cosa ne pensate, Alfonso Signorini avrebbe preferito vedere Beatrice, come vincitrice del GF, al posto di Perla? Esprimete la vostra idea nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.